Buonasera a tutti, sono Luigi Anarac, se preferite, insieme a Sara, ma sta registrando o no? Si, stava registrando, ok. Insieme a Sara, saluta. Ciao. E questa è la prima parte, anche se penso che poi le unirò, del pool sul quarto anniversario di OPDC. Prima i 5 multi, tutte e 10 all'interno della batch di Gear 4 e Nami, per cercare Gear 4. Se vi chiedete perché vuoi arrivare a 10 multi, è perché mancano tutti i PC che si possono trovare nelle 10 multi. Le multi saranno una da parte mia, una da parte di Chacha, un'altra da parte mia, un'altra da parte di Chacha, l'ultima da parte mia. Hai colpito il culo da pari, quindi iniziamo naturalmente Only Gold, due per di Legend, speriamo di vedere tanto rosso. Cioè, prendescono soltanto dorate. E tante rosse, speriamo. Ok, la prima multi ha dato di merda. Però tutte le tiri, eh. No, in realtà hanno messo una nuova cosa che le oro possono diventare... Ah, possono... Sì, non so se quando succederà... Finché neanche una nuova. Non dimmi che non avevo una nuova... Ma non avevo lui, ok. Ma in realtà, guarda che nel 90% dei casi in One Piece, la prima multi che faccio fa sempre di uno schifo che la metà basta. Questa qua non è da meno. Non mi ricordo, i One Piece ti lasciano continuare i pull all'infinito, nonostante... No. Aspettate un secondo. Ok, lì eccoci. Vai te. Qua abbiamo una Legend assicurata come ultima. Nel sinistro se non erro. Qua almeno una Legend. Sappiamo che esce. Abbiamo capito che stiamo iniziando male. E la nuova Carrot, questa? No, è la Carrot Valentine. Ok. Ok, la Legend. Speriamo in qualcosa di nuovo. E l'ultima, la Legend. Un altro, Maghelle. Va bene. Tranquilli. Come si aumentava? No. Devo ancora ricordare come si aumentava. Va bene. Può succedere di non fare tutte le multi decenti. Pintiamo di due gli spazi e andiamo avanti. Sperando che non sia il primo video per far cagare che si dobbiamo rimettere col secondo. Per ora una legna doppione in due multi. Sono di gente che ne ha trovato 8 di Legend in due multi. Ma stiamo tranquilli. Non... Incavoliamoci. Nella prossima multi, che sempre fa lei... No, questa la stai facendo. No, no, nella prossima noi in questa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove... Minchia, proprio... Il due per lo sto vivendo con una felicità che la metà basta, eh. Ah, una Legend. Come undicesima, almeno... Un altro logo. Fisico. Dicevo, nella multi che ora farà Chacha, che non so neanche se sperarci o no in quest'altra multi di Chacha, perché per ora siamo a zero Legend, tranne negli ultimi, ci sarà una Legend alla fine, tra un bel numero, di cui ne ho una sola. Quindi vediamo se... Non ho capito. L'ultima è una Legend assicurata tra poche. Di quelle poche io... Oh, è vero. Di quelle poche io ne ho una. Ah, è come Dragon Ball. No, te sai che ti esce una, è uno tra dieci PG, io di quei dieci ne ho uno. Ah, ogni tre? No, non devo andare nello shop. Devo andare... Cos'è? Ogni tre è la quarta? No. Qua, in base a quante ne fai, c'hai delle multi con delle regole speciali. Ora, vai, spero di vedere un po' più rossi che nelle ultime tre, dato che ce ne sono stati... Vabbè, due, che sono pochi per un due per. O. O. Almeno. Vabbè. Almeno una. Una in più, sappiamo che abbiamo due multi in questo, due rosse in questo. Corazone. Questa qua va dritta al race shop. Ma neanche che uscissero dei PG della Batch. Neanche. Ma ormai tu stai scurando troppo con Dokkan. Non è vero, scurui il giusto con Dokkan. Certo. Ah, no, che è la nuova Carrot, almeno. Almeno un PG della Batch è uscito. Mico Robin. Non ce l'ho. Ok. Uno solo ce l'ho. E se è uscito a farmi trovare l'unico che ho. Cioè, davvero, io non ho parole. Ovezze. Ovezze cosa? Non lo so io. Speriamo che la parte due che faccio domani vada meglio. Perché la parte uno ha fatto cacare. Vedete? Oscurare troppo in Dragon Ball. Oh, di un cazzo. Oscurare troppo in Dragon Ball. C'è la teoria che quando oscuri troppo da una parte, dopo non ti tori fuori da un'altra. Ultimo tentativo. Priscilla. Ti prego. Mi va bene che non mi fai trovare nulla nelle prime quattro. Ora mi fai trovare G4. Non chiedo tanto. E non il TS che diventa G4. Ma G4, G4. Vedete, ci possono essere. Certo. Grazie Priscilla. C'è anche una serra più diretta. No, ce ne sono due di G4. Ah, Brook. Il nuovo Brook. Il nuovo Chopper. Potevo anche non trovarti. Figurati te. Ok, la prima parte è andata talmente male. Che andiamo a farci la doccia. No, che andiamo a soffrire in un angolino. Domani, in registro seconda parte, vedremo se va meglio. Allora. Allora, la prima parte è andata male. La seconda parte può andare solo meglio in quanto so che almeno nell'ultima multi una legend che non ho, almeno per ora, la trovo. Ho chiesto al coniglio. Pase 24 ore. Ti prego, Pri, che scongiuro. Fammi avere qualcosa di recente. Ti prego. Capisco. Proprio non è il mio sugo, Festa. Mi pare di capire abbastanza questo. No, Kinemon. Questo non lo trovo. Oh, almeno una legend. Ah no, è normale la sesta. Un altro di Jones. Va bene. Ce l'ho già. Ma ormai mi dovrei soltanto arrendere all'evidenza che questo sugo mi odia. Ma mi odia pesantemente. Almeno so che mi uscirà di sicuro qualcosa nell'ultima. Però la depressione quando vedi pul su pul andare così però ci può stare. Come ha detto ieri Sara io sculo su Dokkan. La sculatina qua però. No eh. No. Questa mi mancava. Un vernammi Valentino. Sì, non ha senso neanche andare lenti ragazzi. Con delle multisimili. Faccio davvero fatica a credere che alla fin fine ci sia il per due. Davvero. Fatica. Ah, è un nuovo giorno. Ok. Perché questo nuovo giorno porti alle ultime tre multi leggermente migliori. Abbiamo un'altra legenda assicurata adesso. Appendiamo si connetta tutto. Ci vediamo appena se non ci muoio ci vediamo appena si comincia di connetterle e facciamo le ultime tre multi. Nella speranza non dico tanto ma un qualcosa di nuovo che non ho. Finora sei legend cinque legend tutte che ho. non dirmi che davvero sono obbligato a fare la decima a multi. Più ho trovato qualcosa di nuovo perché è tristissima come cosa. Tristissima. Vabbè ci vediamo appena si connette. rieccoci al piccolo teatrino degli orrori con la multi in un set c'è otto ultimo meno otto qui c'è una legend garantita per ultima non mi sorprendo neanche più non ti avevo? Te sono sicuro che non ti avevo. Oh Shiroshi Valentino questo la volevo. Non so neanche a chiedere che cosa tu sia. figuriamoci 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 se poteva essere una legend che mi mancava. Troppo mainstream. Ok dai ultime due una legend che mi manca di sicuro la troverò nella decima di sicuro penultimo multi una legend è incredibile due e che è successo i miracoli tre è arrivato a Sara e sono uscite tre levi vediamo quante che mi mancano una doppione questo invece se tu preso per il culo a livelli che non avete idea ragazzi c'è davvero sei un terzo corassone no figo Sengoku figo non poteva essere vabbè alla decima multi però siamo sicuri che almeno una legend nuova riuscirà almeno quello sono certo quindi una minima certezza dopo una multi con doppio corassone più vabbè io non ho parole doppio corassone vabbè falsetti fallate l'ultima tanto ormai io devo uscire fai l'ultima tanto la depressione depressione qua almeno ma com'è andato ma non ho trovato nulla di nuovo Vinora siamo alla decima multi quelle tre legend erano le tre peggiori che potrebbero uscire allora ma figurati oh diventa legend oh shanks v2 magra consolazione dai dai ok dai shanks v2 almeno ora ho il 20% che esca nami io non voglio nami non chiedo tanto chiedo chiunque tranne nami non guardare bravo luci dai dai ok grazie almeno una nuova legend decente è uscita io sì vabbè solo l'ultima multi è stata minimamente decente la tristezza il pianto proverò qualche faccio un altro hai sculato 75 gemme fanno un'altra una multi primi tasti sbagliati sì una multi appena qua parte tutto che finisco la primi tasto facemi aumentare sì tanto non me le tengo a fare per nulla almeno è uscito lui sì c'è una magrissima consolazione ormai è superato da altri due pg ma almeno uno della top 3-4 dipende dai punti di vista è uscito dai vai faccio l'ultima giusto per pietà di me stesso tanto ormai tanto questo questo non è neanche idea di chi sia questo sì questo sì e ragazzi finisce così vi ringrazio di seguito e lasciatemi almeno da aver trovato Lucy di seguito di seguito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.